Gaetana, 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 eccomi signore, eccomi sta qua signore, ho fatto ancora, si signore, si signore, ma tu lo sai io chi sono, si signore, sono cinque anni che pulisce qua io signore, già lo so signore, io tenevo in mani e figli di questo paese, si signore, io tenevo la pittura, così che tenevo gloria e andrò a tenevo l'anello, l'anello, dove l'anello, dove l'anello, se mi porti una sigaretta senza farti vedere, devi perdere un segreto, signore, mio cugnato vuole venire a lavorare in Italia, ha detto se tu lo puoi aiutare, io gli ho detto che parla tu con lui, se gli puoi dire se... Tu lo sai chi c'era dietro le brigate rosse, si signore, chi c'era? I servizi segreti, signore, già me l'ha detto questo segreto, signore, sono tanti segreti, si, me l'ha detto già, signore, e prese per le palle per tutti i segreti, ma adesso è ancora presto per rivelare, ma te li voglio rivelare. A me me l'ha detto. Lo sai chi c'era dietro l'aliancia? Chi c'era, signore? I servizi segreti, signore, era un bufazzo, neanche sapeva che doveva sparare. Era un burattino, signore, un burattino, che ci ha avuto, signore, oh, che ha fatto, signore, ho fatto ancora. Signore, scusa, se hai fatto tutto insieme è meglio, perché chi pulisce, leva, se c'è la patrice che è troppo vuota, dopo deve parlare. Senti, ma sta piovendo, perché sento un'umidità nelle cose. Perché hai fatto la pipiessa scappa, signore. Ti dico il vero motivo per cui ti ho chiamato. Per tutti, ascoltami, io voglio dirti una cosa, che tu devi stare attendo in questo paese, il problema più grave, lo sai? Qual è, signore, signore? L'immigrazione. L'immigrazione, signore. Immigrazione è piena d'Italia, è rovinata, adesso è piena di negri. Viene, signore. Noi ci dobbiamo difendere, questi negri, e li dobbiamo spavare con le armi, pum, pum, e tutto è finito. Viene, signore, sennò gli è stata la pressione. Ho fatto ancora. Signore, scusa, per favore alza la mano se la devo fare senza padella. Se c'è la padella va bene, senza padella. Ma lo sai, peggio ancora dei negri, chi c'è? Chi c'è peggio ancora, signore? Peggio di tutti gli immigrati. Sì, signore. I filippini, i filippini sono una vogna, sono una schifezza pericolosa, è l'invasione dei filippini. Sì, signore. Dobbiamo fermarli, io e te insieme, ti faccio cucinare delle grandi oiente. Grazie, signore. Li dobbiamo fermare perché i negri e me ne lo vedo in faccia, subito prendiamo il mio, pum, e tutto è finito. Ma i filippini si mesclano in mezzo agli altri con le fattezze umane e si mettono dappertutto. I filippini possono andare dappertutto e noi non li vediamo, ma anche in questa casa si potrebbe nascondere un filippino. Grazie, signore. Ma tu di dove sei? Io di Milano, signore. Milano? Ah, bravo, prima di me, un ragazzo italiano che fa ancora questo. È strano però perché hai delineamento molto peculiare. Grazie, signore. Ma papà di dove è? Di Milano, signore, pure lui, signore. Pure lui, signore. Che squadra dici? Manilan, signore. Milan? Milan, signore, signore. Ascolta, vuoi sapere perché ti ho chiamato? Sì, signore, più pulito è dopo quando hai fatto, signore. Per tutte le notti ho scritto una lettera a Giorgio Napoletano. A lui personalmente la dovrei consegnare senza farti vedere. Sì, sì, signore. Ho scritto una lettera a Giorgio Napoletano sui negri. Sì, signore. Hai capito? Sì, signore. Io conosco tutti i segreti di questo paese e a te li volevo raccontare. E a te li volevo raccontare. Il generale De Lorenzo. Allora c'era modo che Bettino Craxi era il figlioccio del marito di Vangelis. Sì, signore. Io le avevo detto, se non ce la poteva, alza la mano, signore. Scusa, eh. Oh, vuoi sapere il vero motivo per cui ti ho fatto chiamare? Sì, signore. Per tutte le notti ho scritto una lettera a Ratzinger. A lui personalmente la dovrei consegnare. Sì, sì. Senza farti vedere. Sì, sì, signore. Perché io conosco il suo segreto. Oh, ho fatto di... Che c'è a vedere oggi, signore? Scusa. Ho perso il controllo dello Stato. Ho perso il controllo dell'indestino. No, questa volta non c'è niente. Dio va come un coppio estraneo. Se una volta avevamo il controllo e io facevo quando scegliete di fare quelle che dopo me lo fate. Sì, signore. No, che prima succeda e dopo chiamo a te. Dopo chiamo a me, signore. Di dove hai detto che sei? Di Bologna, signore. Bologna? Bologna, signore, sì. È strano. E papà di dove è? Di Bologna. Bologna, insomma. Sì, signore. Bene.